Lui si chiama Redmi Note 9S, arriva direttamente dagli amici di Xiaomi Today e si candida Best Buy. Lo guardo sul retro e vedo la novità, una forma finalmente diversa del reparto fotocamere. Guardate un po', direi di partire con la recensione, questo signori potrebbe essere un telefono molto interessante. Ed eccoci qua ragazzi con Redmi Note 9S, scatolina, abbiamo già visto l'unboxing, vi dico subito che sul display è già applicata la pellicolina di fabbrica e troverete in dotazione anche la cover in TPU, quindi abbiamo già tutte le protezioni del caso. Display da 6.67 pollici, Full HD+, HDR10, Snapdragon 720G, esiste in due versioni 4GB di RAM o 6GB di RAM, di conseguenza 64GB o 128GB. Andiamo un po' a vedere le informazioni, MIUI 1106, ovviamente global, versione di Android ovviamente la 10. Con un bel po' di fotocamere, la frontale che ci guarda in quest'occhio è da 16 megapixel. Se lo vado a ruotare, back cover in vetro, non trattata oleofobicamente, il che significa, guardate un po' quante ditate cattura, ragazzi, attenzione perché è sempre sporca questa back cover. Vetro, anche se sembra un po' cheap come costruzione. Oblo con 4 fotocamere, LED flash, 48 megapixel, questo loghetto che ci sta a indicare la risoluzione massima. Quindi queste 4 cam sono 48, 2 per il bokeh, 5 per la macro, 8 grandangolare. Video 4K, 30 frame per secondo, jack per inserire i vostri auricolari, porta di tipo C, memoria UFS 2.1, microfono, altoparlante mono, in alto la porta ad infrarossi e il secondo microfono per la riduzione dei rumori. Vi lanciare volume e, guardate un po', incavato un pulsantino che serve, ok, per accenderlo e spendiolo, ma serve anche per sbloccarlo con la vostra impronta digitale. Se non lo volete sbloccare con questo pulsantino o l'impronta, si solleva e si guarda e questo si sblocca. Ve lo faccio rivedere, e si è sbloccato, quindi di giorno o con buona luce vi riconoscerà sempre. Si può anche riattivare, oltre che sollevandolo, si può riattivare anche facendo un doppio tap sul display. Non abbiamo lo Luison display, non abbiamo il display AMOLED, abbiamo però un piccolissimo LED di notifica monocromatico che si illumina quando riceviamo un qualunque messaggio. L'ho risbloccato e vi dico che non abbiamo l'NFC, cari ragazzi, purtroppo manca, ma abbiamo ovviamente la modalità scura, che porta tutto in nero e vi fa vedere un menu molto più bello e affatica meno la vista. Fra le tante cose, vi faccio vedere nella sezione strumenti, troviamo la radio FM. Wi-Fi è dual band, per finire all'interno, batteria da 5.020 mAh con ricarica fast 18 Watt. Subito la batteria, vi faccio vedere un po' di screenshot perché voglio subito farvi vedere quanto ho totalizzato. Innanzitutto lo scarico, bello lineare tranne qualche picco quando uso la connessione dati al posto del Wi-Fi e vado a farvi vedere come abbia scaricato il telefono, totalizzando quasi 8 ore di schermo acceso, quindi una durata della batteria veramente tanta. La batteria bella grande da 5.020 mAh porta anche un peso che non è piuma, 209 grammi, quindi il telefono è abbastanza padelloso e abbastanza pesante, non è sicuramente un telefono tascabilissimo. Detto questo, come gira con lo Snapdragon 720G e 4 GB di RAM? Funziona abbastanza bene, vi faccio vedere prima il multitasking, eccolo qui, con la X cancello tutto, vado ad aprire il solito social, quindi il Facebook e vedete come è abbastanza rapido nell'aprire. Andiamo a commentare, quindi ciao come state, tutto molto veloce, la tastiera è abbastanza zanzarosa, torno indietro, vado qua, apro Instagram, vediamo quanto ci mette, non ci mette nemmeno tanto, andiamo nella mia sezione, vi invito se non l'avete ancora fatto a seguirmi anche su questa piattaforma, vi farò vedere tutte le foto, il design oppure gli scatti dei telefoni che provo. Concluderei con la prova ludica, giochi tridimensionali, solito Asphalt 9, vediamo un attimino in quanto si apre, prima di aprirlo, punteggi, Antutu Benchmark e GIG Bench 5. Direi di andare ad iniziare la gara, premuto il pulsantino, vediamo quanto impiega per aprire il gioco, attendiamo, attendiamo, nemmeno tanto, vediamo un po' se troviamo qualche lag ragazzi, vediamo se ve ne accorgete prima di me, 3, 2, 1, ecco un piccolo lag, ma questo lag avviene spesso ed eccone un altro, due piccoli lag nell'animazione ma la giocabilità è molto molto buona, quindi ci si può giocare tranquillamente ai giochi tridimensionali, non preoccupatevi. Solito discorso di tutti gli Xiaomi, con la MIUI 11 in arrivo, la 12 con i pulsantini qua in basso, se non vi dovessero piacere si va a cambiare i pulsantini con le gesture, quindi le gesture che fanno avanti, indietro, home, semplicemente sfogliando il display, un rapido scorcio con il diretto rivale, eccolo qua, Realme 6, ve li faccio vedere, li ho messi insieme nell'unboxing, quindi se volete vedere altre immagini dategli un'occhiata al video unboxing dei due telefoni, presto vedremo anche la recensione di Realme 6, ma questa è un'altra storia, concentriamoci su di lui, anche perché ci resta semplicemente da parlare della parte multimediale, abbiamo detto quattro fotocamere in questo blocchio, è bello sporgente, apriamo la parte fotografica, e vi faccio vedere un po' come inquadra, come scatta le fotografie, intelligenza artificiale, che vedete qua, gli effettini, l'HDR, il flash, le impostazioni della cam, con la possibilità di macro, il formato della foto, 16 noni, tutto schermo, guardate bello, tutto schermo, oppure uno a uno, quattro terzi, un po', insomma, ce n'è per tutti i gusti, ma vi volevo far vedere anche lo switch fra le fotocamere, quindi la fotocamera che va a fare lo zoom, 2x, 1x, quindi la standard, e il grandangolo, guardate come va a switchare, andando ancora sulla destra, tutti questi settaggi, che sono foto, video, video, quindi registrabili a una risoluzione massima di 4k a 30 frame per secondo, video breve, lo slow motion, andiamo poi a vedere la sezione 48 megapixel, che però ci fa scomparire tutte le opzioni, quindi l'HDR, eccetera, eccetera, il ritratto, quindi vado a sfocare quello che sta dietro al soggetto, modalità notte, panorama e modalità pro. Vi dico subito che esiste la Gcam per questo telefono, quindi andrà anche a migliorare ulteriormente alcuni scatti, dipende forse anche un po' dalle condizioni di luce e della giornata, andiamo a vedere come scatta le foto, ma prima, me ne stavo per dimenticare, vi faccio sentire l'audio, quindi l'audio mono di questo smartphone, eccolo qua. Ecco, classico audio di Xiaomi, senza infamia e senza lode, mi è piaciuto darei un 7, anche perché è mono e i bassi sono quello che sono, quindi andiamo un po' a vedere come scatta le fotografie, andiamo al discorso finale, partiamo dai selfie, selfie con o senza sfocato, quindi a voi la scelta, in che modalità scattarli, mi sono piaciuti, il discorso cambia con le fotocamere posteriori di sera, i risultati sono piacevoli, mi raccomando ragazzi, mano ferma, altrimenti è un disastro, perché non si tratta di un camera phone, un top di gamma, andiamo anche alla sera un po' in controluce, quando il sole c'è e non c'è, bello l'effetto sul cielo, bello anche il colore riprodotto delle piante, e in lontananza gli oggetti sono messi bene a fuoco. Da vicino è la parte in cui rende meglio questo telefono, belli colori, belli i dettagli, vi faccio vedere anche un po' di cucina, perché in questi giorni che siamo tutti a casa, ci siamo sbizzarriti con il cibo, con il mangiare, ci stiamo veramente distruggendo, e quindi discorso finale, un telefono che fa delle belle foto di giorno, buone ma non ottime, la sera anche i selfie vengono piuttosto bene, per la condivisione social certo, non è un top di gamma. Peccato per l'assenza dell'NFC, peccato per questa back cover che cattura veramente tanto le ditate, peccato per questo peso 209 grammi che in mano si fa sentire, perché siamo davanti veramente a un telefono ben riuscito. Appassionati secondo voi, quanto abbiamo speso? Due versioni esistono di questo Note 9S, la prima che avete visto nel video, 4 giga di RAM e 64 giga, su Amazon in vendita a circa 200 euro, la versione pompata 6 giga di RAM e 128 giga a 25 euro in più, 225 euro. E allora non sto nemmeno a dirvi che conviene acquistare la versione maggiorata per avere più RAM, per avere più memoria, un telefono quindi più reattivo, anche se questo da 4 giga di RAM, l'avete visto anche voi, non si comporta affatto male. Quindi Best Buy o quasi, gli manca l'NFC, vabbè, e questa back cover troppe ditate ragazzi, basta toccarla e cattura un sacco di impronte, per il resto foto più che buone per essere un medio di gamma, non costa nemmeno tanto e allora con la MIUI, a breve anche la 12, farà un grande successo, farà breccia sicuramente nel vostro cuore. Fatemi sapere se vi piace, se non vi piace, se lo acquisterete, magari se lo avete già acquistato. Ringrazio come al solito gli amici di Xiaomi Today per approfondimenti, per sapere di più sul mondo Xiaomi, vi rimando direttamente al loro sito, trovate tutto qua sotto in descrizione. Tutti i link per seguirmi sui vari social li trovate sempre qua sotto. E noi ci sentiamo presto, ciao!